Il legno è materia nobile, antica e primordiale. Il legno è la nostra origine. Ancor prima di essere umani, la nostra mano già lo usava. Il corpo si formò col legno. Stringerlo in mano è ritornare noi stessi. Un manubrio fatto di legno è come un viaggio fuori dal tempo e dentro la natura. La nostra autentica natura. È fatto per la mano ed è tutto, tutto fatto a mano. Grazie a tutti.